ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video come vedete oggi era una bella giornata abbiamo un po più di libertà quindi ho approfittato per cambiare un pochino location come avete letto dal titolo il video di oggi è una piccola riflessione che mette a paragone quelle che sono le doti naturali con quello che è l'allenamento o lo studio ma se volete sapere che cosa intendo ne parliamo subito dopo la sigla dunque cosa sono le doti naturali beh doti naturali sono tutte quelle capacità che noi abbiamo o dal momento della nostra nascita o per le quali siamo portati naturalmente se pensate ad esempio al colore degli occhi o eventualmente col tempo la vostra altezza o il colore dei capelli quelle sono doti naturali più che evidenti esistono anche altri tipi di doti naturali che sono un po meno evidenti ed è tutte quelle cose per le quali siete portati che sia che ne so avere una memoria più propensa alla matematica o alle scienze umanistiche quelle possono essere doti naturali se siete naturalmente più forti veloci o elastici di qualche vostro amico anche quella può essere una dote naturale ma nella vita quanto contano le doti naturali e quanto vale la pena sbatterci contro cercare di capire qual è la nostra dote naturale beh ragazzi vi dico una cosa se volete sapere qual è la mia dote naturale la mia dote naturale è assolutamente nulla non ho assolutamente niente di speciale non ho nessuna dote con la quale sono nato in maniera particolare ma sono un incredibile testardo è là dove mi impunto per voler imparare qualcosa per ottenere dei risultati lì inizia il mio allenamento immaginate ad esempio quanti push up riuscite a fare forse all'inizio ne fate pochi poi allenandovi ne imparate a fare molti di più questo è pressoché ovvio e l'ho detto anche in altri svariati video ma anche la mente la memoria può essere allenata anche la vostra sensibilità artistica come fotografi come videomaker può essere allenata tanti più libri comprate tante più immagini guardate tanti più video fatti da altri guardate tanto più si sviluppa il vostro senso estetico tanto di più aumentate quella che è la vostra sensibilità più vi esponete al mondo più vi confrontate con gli altri più le vostre doti tendono ad aumentare che sia attraverso lo studio o attraverso l'osservazione l'essere umano è quanto più è adatto al cambiamento è quanto più propenso al cambiamento cambiare fa parte della nostra stessa natura noi cambiamo per migliorarci e per ottenere risultati migliori ora quali sono i suggerimenti che vi posso dare qualche consiglio se state studiando qualcosa il mio consiglio è fatelo per 25 minuti prendete 5 minuti di pausa e poi ricominciate o dopo un'intensa sessione di studio di allenamento quello che fate una mezz'oretta di riposo cioè provate a dormire mezz'ora un'ora e questo aiuterà sia a fissare i concetti nella vostra mente sia al vostro fisico recuperare le forze e le energie che avete speso eventualmente per un allenamento questi sono dei consigli molto basilari però si basano su dei fondamenti scientifici ben concreti è provato che se sovraccaricate il vostro fisico la vostra mente con un troppo allenamento o troppo studio non riuscirete a fissare bene dei concetti o non riuscirete a ottenere quell'incremento muscolare o quella risposta muscolare che desiderate quindi è inutile sovraccaricarsi di studio di allenamento perché i risultati verranno praticamente azzerati è molto più logico proprio come quando si costruisce una casa piazzare un mattone metterci la calce cioè il cemento quello che è aspettare che il cemento si asciughi con l'altro mattone poggiato sopra e poi continuare a ripetere questo meccanismo perché se voi continuate a mettere i mattoni e senza dare il tempo alla calce di asciugarsi avrete un muro che cade dopo due secondi perché non si è fissato lo stesso modo nella vostra mente qualsiasi cosa memorizzata immagazzinata e ha bisogno di tempo per sedimentare per creare quello che è un diciamo il collante dei vostri pensieri dei vostri ricordi eccetera e in più diciamo c'è bisogno anche del pensiero libero soprattutto per quanto riguarda l'ambito artistico a volte vagabondare nel mio caso allenarmi camminando dentro un bosco una foresta può aiutare a sviluppare un pensiero creativo a sviluppare un pensiero più artistico a guardarmi intorno e avere l'ispirazione per fare qualcosa beh questo è quello che faccio io questo è quello che fa per me perché vi sto dicendo questa cosa perché molto spesso con un mio amico ballerino abbiamo avuto una discussione su che cosa sia meglio avere se sia meglio avere delle doti naturali o sia meglio sviluppare delle doti col tempo io sono sempre stato dell'idea che avere delle doti naturali potrebbe essere anche una limitazione perché essendo naturalmente portati per qualcosa si tende a trascurare quello che è lo studio o l'allenamento e quindi non si ha un margine di miglioramento immaginiamo ad esempio una ballerina dotata di una grande apertura ovviamente tenderà a non fare troppo stretching tenderà a non fare troppi esercizi dell'allungamento e così via e questo la porterà a non avere un miglioramento d'altro canto una persona che non è dotata di elasticità muscolare di elasticità nel proprio corpo tenderà a fare tanto stretching a continuare ad allenarsi a fare stretching a cercare continuamente il miglioramento questo crea anche un set mentale che lo porterà a migliorare questo modo di ragionare io credo valga per qualsiasi cosa anche se siete dei fotografi o dei video maker o semplicemente gli studenti se fate solo quello per cui siete portati e vi viene naturale e non vi date da fare per ottenere dei risultati migliori non ci sarà del margine di miglioramento non riuscirete a salire a un livello superiore e vi adagerete su quello che è il vostro status su quello che siete ora e rimarrete tendenzialmente immutati e questo che cosa comporterà che altre persone che siano da fare molto più di voi vi supereranno non è che il mio amico sbaglia nel dire che avere doti naturale è un grande vantaggio è un grosso vantaggio ma bisogna avere anche la mente le capacità per sfruttare quella dote naturale non adagiarsi sugli allori e continuare a migliorare dal mio punto di vista se non avete doti naturali siete un foglio bianco sul quale si può scrivere qualsiasi cosa tutto quello che desiderate tutto quello che volete imparare a fare come dice il mio canale si parte da zero scegliete qualcosa di cui avete bisogno scegliete un obiettivo che volete raggiungere e iniziate ad allenarvi a costruire un po per volta quello che è il vostro traguardo perché i traguardi si raggiungono un passo alla volta la vita non è uno sprint come dico sempre la vita è una maratona detto questo fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate se siete più provenzi ad avere doti naturali se preferite persone che abbiano doti naturali o se volete sviluppare col tempo le vostre capacità e raggiungere traguardi sempre più alti spero che questo spunto di riflessione possa aiutarvi a non demoralizzarvi se non ottenete subito i risultati che sperate se un vostro amico è naturalmente portato e li ottiene prima di voi non vuol dire che non possiate raggiungerlo detto questo se questo video vi è piaciuto e vi ha tirato un pochino su di morale nei momenti in cui vi sentite giù mettete un like iscrivetevi al canale condividetelo con i vostri amici e se vi va con me ci vedremo nel prossimo video see you next ciao